Allora ragazzi siamo arrivati, finalmente siamo qui, c'è uno bel dell'orto frutta Bene raga, andiamo alle macchine e si parte Ma quindi non ti passava l'XXL? Hai dovuto fare il doppio passo Grazie a tutti Grazie a tutti Raga comunque la più bella ce l'ha lui come sempre C'è Elvio e il capo raga Guardate che bella è Vabbè per te Vieni Ortello, ortello quanto sono belle, quanto sono belle Guarda che bomba di auto Dai raga io voglio questa sedana, voglio la sua sedana Com'è che fa? Guarda che bella Raga Casino il studio va Comunque siamo fermati un attimo, guardate là il paesaggio pronto successivo E niente ragazzi andiamo, let's go Vabbè van di tanto store Quanti cazzo siamo a sto giro raga Sempre di più Sempre di più Guardate laggiù Ma guardate quanti siamo raga Tutte a tre Che bomba Deve ancora arrivare un botto Sì ragazzi Com'era duro che facciamo In pratica stiamo andando Mamma mia che Vuoto biturbo performance No Porca troia Dio Ah no è bestia di auto Dio Guardate continuano ad arrivare Questo giro ragazzi Sono stati integrati anche le 8p Ma che devono essere tenute Proprio a puntino Devono essere Ma che roba Questa non ha l'età che ha Lo vedete Questa è contemporanea Guarda che belli Quanti siamo Guardate è arrivata la battuglia Fermatelo Fermatelo No no è pit stop Stiamo recuperando Che eravate rimasti indietro E noi siamo fermi qua da 10 minuti Guarda là quanti siamo Raga fino laggiù in fondo Sono tutte fottissime Tre S3 Ed RS3 E' un'esercizio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi siamo arrivati, ufficialmente parcheggiati tutti quanti, 60 e passa auto. Oggi abbiamo anche la Naomi per noi. Che bello. Andiamo a fare il rinfresco e facciamo il pranzetto. Raga, quanti siamo? C'è anche il reparto A3 8P, ragazzi. Finalmente. Ah, eccoci qua. Rinfresco, ragazzi. Abbiamo più di 110 persone. Meraviglioso, ragazzi. Vi consiglio. Mi dite di venire sempre, comunque, perché è veramente spettacolare. È una cosa che non dovete perdervi. Guarda che roba. Boo, tutti assieme. Boo. Raga, mi ero dimenticato che c'è anche l'altra sezione laggiù. Che bomba. Ah, raga. Siamo all'incirca 120 persone per un totale di 65 auto. 65? Una roba del genere. Mangiamo. E qua abbiamo da distribuire numerini della lotteria e vari gadget. L'abbiamo preparati. Sono già seduti tutti, come avete visto. Adesso andiamo. Let's go. A distribuire. Falli due premio. Madonna, raga. Guardate che bello. Da giù c'è il raduno da Matte. Matte fa casino, vedi? Guarda che bello il caglionino. Guarda che bello. Guarda che fa un po' di no. Ragazzi, secondo l'aduno che perdiamo un drone in questo lago. Se venite qua con un sub vi fate conti su un bruno. Pieghiamo sti bigliettini, dai. Vieni, vieni. La stracca, la stracca. Vai qua la family. La big family. Là c'è l'altro. Guarda, guarda. Oggi la family è al completo. Ah, ragazzi. Ci siamo. Ci siamo. Siamo pronti. Mettiamo dalle cose più semplici. Tappire l'aria delle gomme. Vorrei metterlo dentro, forse. Cos'è? Non ci sto credendo. Ti sei pescato da sola. Love. Eh, a beto, eh. Tappino. Attenzione. Tutto sotto l'occhio sveglio delle tre camere. Cos'è? Vieni, laggiù. Hai detto nei tappini. Si inizia ad arco lì po' più servici. Poi alla fine sono più complessi. Quindi sei stato fortunato. Però sono belli, dai. Sono carini. All right. Ultimo tappino. Dodici. Laggiù, eccolo. Numero 27. Là? 27. Cappellino? E laggiù, ragazzi, giovi. Conne. Numero 2. 2, 2. Eccolo là. Sono le placchette. Sai dove si chiude la portiera che c'è il gancio? Sono le placchette che coprono lì. Non sono verdi. Forse sono carbon. 23. Laggiù, laggiù. No. Viva! Viva ragazzi. Due volte ti chiedi lo stesso regalo. Eh? 1, 2, 3, 3, 2, 1! Eccolo! Sì! Porto occhiali. Guarda andate meno. Sì, sì, sono i versari. Dai, let's go. Ne abbiamo altri due. 0, 9. 0, 9. Va bene. Ultimo porto occhiali. Vai a sinistra. Vai a sinistra di là. Vai. Pesca pene a papà, eh. Porta 3. Uh, c'è la cicla, eh. Attenzione, porta qua. Qua. Porto occhiali. Sì. Quello della vaniglia. Oh, 3 ce n'erano, eh. Che ti devo dire? E vieni la prossima volta. Pesca? Ah, giovane. Numero 15. 15? 15? Allora. Allora. Un mini Apple Watch. No, è tipo Apple Watch. Ma stai, 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 stai. Eh? È? È questo. Adesso ce n'è altri 30, Svip. Vai, Benny. Vai, Matt. Orologi smart. Piccoli ma smart. Numero 62. Dov'è? Qua? Qua, qua. Un piccolo smart watch. No, c'è. Inizio a vincere, no. 32. Grazie. Grazie, ragazzi. Sopro. Eccolo. Dai, è l'ultimo smart. Vai, ultimo smart. Numero 32. 32? Laggiù. Let's go, continuiamo. 3, 7. Vai laggiù, vai. Panno maffra. 47. Eccolo là. Numero 4. Eccolo là. Kit pulizia cerchi per i giovani. 3. 3 regali mancano ancora. Vai, vai. Numero 25. Ah, ok, ok. Ha vinto Cree. Sì. Ma che bastardi, oh. Merde. Merde. Questo è un kit pulizia dello schermo dell'auto. Audi originale. L'RS5. Hai pannetto, profumatore e spruzzino nebulizzante per pulire. Lo schermo. È schifo. 13. 13. Oh, guarda che è una bomba questo. Guarda che è una bomba. Questo è kit pulizia originale Audi. Una storia. Tac, figa. Allora, tanta roba, eh. Questa è tanta roba. Il kit ambient light. Numero 7. Il 7? Là, hai vinto un kit ambient light. Che non ce l'ho qua, ce l'ho in macchina. Ma lo vuoi o non lo vuoi? L'ambient light in macchina. Porta, porta. Porta, la porta a casa che è sempre buono. La vuoi ripetere, la vuoi ripetere. Bene ragazzi, fin... Che belli che siamo. Tanti siamo? Guarda qui. Mamma mia, siamo andati ragazzi, abbiamo finito. Benny, a Roma, abbiamo fatto sto record o no? Mamma mia, 64 macchine, 139 persone. Niente ragazzi, ora dobbiamo un attimo riorganizzarsi perché dobbiamo abituarci a questa mole di presenza. Ci siamo, andiamo a casa, siamo arrivati, siamo arrivati. Bene ragazzi, scusate se non ho fatto altre riprese, ma del ritorno intendo dire, ma un po' la stanchezza e un po' le troppe cose da gestire, da fare, non ho fatto altre riprese. Ma spero che vi sia piaciuto il video, spero anche che se hai un A3, un S3, un RS3 la prossima volta verrai anche tu. Vedremo di organizzarci ancora meglio per ospitare ancora più gente e ancora più auto. Vorrei ringraziare tantissimo il Benny, che ragazzi dovete sapere che praticamente fa quasi praticamente tutto lui. Cioè, quindi tanto di capello, chapeau. E volevo ringraziare anche il ristorante, che sono sempre molto disponibili e cucinano anche molto bene. Spero che sia un'opinione, diciamo, comune. E la location, raga, comunque non c'è da dire, bellissimo questo giardino, arriva al lago. Una delle location più belle che abbiamo, diciamo, sempre selezionato negli anni. Che dire, ricordo di mettere un bel pollicione, che serve molto all'algoritmo. E che dire, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!